Il fotografo danese Sobol con Weed and Without You, ma anche Franco Zecchin con le foto di Letizia Battaglia e poi ad Alberto Guarnerio con favolosi anni 60, le fotografie dei grandi personaggi del cinema, dell'arte, del teatro e della società, Giovanni Sesia con la vita al bivio e gli scatti di Luca Catalano Gonzaga. Questo è un percorso dedicato al ritratto che si può appunto in qualche modo incontrare a Palazzo Cicogna, mentre poi nelle altre sedi che sono in città, Fondazione Bandera, Galleria Boragno, Studio Legale A.E.A., Galleria Farioli e poi ci apriamo i territori, quindi Castellanza con Villa Pomini, Legnano con Palazzo Perico il Castello e Castiglione Olona. È un'occasione per vivere intensamente la fotografia passando da un luogo agli altri, scoprendo anche un territorio ricco di spunti anche per chi ama la fotografia di architettura.